Con Emilio Cordeglio, operatore turistico imperiese, che per la sua professionalità e conoscenza del mercato non ha bisogno di presentazioni, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione invernale. Abbiamo notizie di alberghi che hanno scelto addirittura di non aprire, questo non è un bel segnale, Cordeglio. E' vero, purtroppo è partita la stagione invernale il 23 di dicembre ed è partita sotto tono, perché non siamo riusciti a creare quell'interesse che il consumatore tradizionale, il consumatore pensionato, che poi è un pensionato in trasformazione ovviamente, e quindi o creiamo le condizioni per creare l'attesa di una vacanza, oppure questa vacanza si svolge da un'altra parte. E' pure vero che la crisi turistica e che la crisi economica in particolare ha un po' massacrato il turismo del sole, del mare, dei periodi invernali, perché da noi la stagione era, a Sanremo la stagione era invernale, non era estiva. Ancora oggi abbiamo la speranza di vedere negli alberghi della riviera la presenza di un turista che non solo cerca il sole, ma cerca la cultura, cerca la gastronomia. Non siamo stati capaci a vendergli queste cose, abbiamo considerato un turismo residuale, l'abbiamo considerato il turismo che dava un po' fastidio perché erano tutti anziani. No, non dà fastidio proprio quando salgono sulla nave a Savona, oggi ci saranno 10.000 pensionati che salgono sulle navi da crociere per farsi la crociera di Capodanno, e non voglio dire la crociera di Capodanno, ma abbiamo ormai registrato che il turismo che arrivava sulle riviere oggi è destinato ad altre destinazioni. Quindi non è un problema di crisi, ma di una concorrenza evidentemente più agguerrita. Diciamo pure che sia pure un problema di crisi, ma noi abbiamo e abbiamo avuto risorse eccellenti per attivarci verso queste categorie, e non le abbiamo spese con convinzione. Ogni albergatore ha pensato a se stesso, convinto che da solo vinceva, invece era necessario fare un sistema. Ma il concetto di sistema non poteva tagliare fuori gli operatori, ognuno i miei clienti. Poi i clienti sono dell'operatore che li manda, come dell'operatore che li mette sull'aereo, come della grande compagnia che li attrae sulla nave. Quel sistema di cui avevamo bisogno non siamo riusciti a metterlo in movimento, non siamo forse stati capaci di andare d'accordo per individualismo. Resta il problema che la stessa nostra attività, che era un'attività che si è caratterizzata per incami, cioè noi portavamo qua la gente e questa gente che portavamo qua era delle agenzie del Nord Italia, del Nord Europa, che venivano attraverso di noi a passare un periodo. Oggi queste agenzie non ci chiamano, vanno in destinazioni diverse, hanno grandi difficoltà, è vero, ma noi necessariamente dobbiamo fare tutte le cose opportune per non solo mantenere, ma rilanciare. Voglio fare un esempio sulla città di Nizza che ieri è passata sulla stampa ufficiale. Hanno creato un momento magico per il fine anno con le luci, con l'addobbo delle strade, con questi grandi clown che viaggiano a 7-8 metri di altezza sui trampoli, illuminati, e che questa sera parte con caratteristiche è tipo la festa delle luci di Lione. Possibile che noi con il nostro apporto culturale, e forse bisogna ritornare anche all'idea che alla contribuzione dei vari operatori. Voglio dire, noi non abbiamo mai sentito i commercianti battere sul problema dell'ospitalità o realizzare le condizioni perché l'ospitalità fosse più allargata, più concreta. Noi siamo disponibili a discutere, però a discutere almeno alla pari, non che ogni volta mi sento dire ai miei clienti e magari sono quelli che li ho mandato io con il gruppo. I clienti sono di tutti e nello stesso tempo di chi è più capace di poterli accarezzare e ospitare. Le condizioni professionali ci sono, è necessaria una rimodulazione e mi dispiace dire che stiamo ancora aspettando la legge sulle agenzie di viaggio, per esempio, che doveva arrivare per questo Natale. Insomma, il turismo è ora di smetterla, non può essere messo in seconda o terza fila. Il turismo è economia, è economia di qualità e quindi le autorità hanno l'obbligo di rilanciare con noi le capacità di attrattiva che non possiamo perdere.